Ciro! Cielo! Che sorpresa vederti qui! E' da quando abbiamo sconfitto Ripto ad Avalar che non ci incontravamo! Beh, gli affari hanno iniziato ad andare male da quando sei partito, quindi mi sono trasferito qui e sono entrato in affari con la maga locale, donna adorabile, sembra che ami molto i draghi. L'aga mi ha chiesto di sorvegliare Sheila e il canguro. Credo che se tu avessi un po' di soldi potrai lasciarla fuggire. Sarebbe un ottimo animale da compagnia.